Tu E' interessante, non finisci mai di guardarti intorno, perché comunque ha tanti elementi interessanti, con una sopraelevata, con tutte queste figure, diciamo anche geometriche, insieme ai vetri, cubiche appunto, è un bel gusto, mi piace. E tutto il mondo è paese, ne siamo milioni, milioni di case e colori, e chissà che favole strane, strane le religioni, tra la gente che gira, chi parte, chi arriva, e va. Il mondo gira, boom, boom, batta il sole, boom, boom, la vita gira intorno, casca giù il mondo. Mi è mio no, mi è mio no, mi è mio no. Ti sento deserto, lontano miraggio, non sappia che vuole accecarmi. Il mondo gira, boom, 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 boom. La voceани per il mondo è troppo. Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti